Non è la prima volta che cerco di registrare questo gioco, quindi speriamo sia l'ultima. Possiamo già personalizzare il nostro personaggio con svariati colori, anche se non è assolutamente vero, perché... Oh mio Dio! Sì, è vero. Maglia a righe veneziana e scarpe che... non ho capito, ma non importa. Non è possibile, ma è già morto questo gioco? Proviamo a cambiare... in Asia magari? Ci sarà qualcuno in Asia? Ricarichiamo il menu? Tuttavolta vedo che ci sono ben 3672 giocatori online, quindi troveremo una partita. Oh! Bello! Terrificante, ma emozionante. Perché c'ho il campo visivo di una GoPro? Siamo su dei camion volanti? Cosa succede? Così ci si troppa? Dai, mi butto anch'io. Cazzo! Ma come sono tutto molle nella mia corsa! Ok, pugno, pugno. Abbiamo... il culo molto stretto, quanto fare? Vabbè. Oh, cazzo, c'è uno. Dai, no, subito no. Andiamo a vedere qui dentro. Ah, c'è anche l'anello che si chiude. Cazzarola come si chiude? Non so come si apre la porta. È un problema. È merda. C'è una freccia gialla molto... Ah, di qua forse. E credo di non sapere bene cosa fare. Andiamo da un'altra parte. Lì c'è un albero AS. Era veramente grande quella freccia. Cosa? Tone Age? Mi stanno per aprire gli alieni? E la guida intergalattica stanno per distruggere il pianeta? Ah, la E era per mettere un marker. Quindi se io premo la F... Oh! Ottimo. Ma lo vedono tutti o solo io? Ma come funziona? Cioè, ci sono delle armi, immagino. Questi sono i primi spari che sento dall'inizio della partita e ne è morta di gente, eh. Il meteo dinamico qui. Meteo, insomma. Il cambio giorno e notte, diciamo. Molto meglio di prendere a noi. Dai. Mi fa molto piacere che gli sviluppatori del gioco siano a favore dell'eolico. Quindi, batterò il sì che succede. E qui sta succedendo qualcosa di strano. Oh, finalmente qualcosa. Cosa è? Una fumogena? Munizioni, immagino. Come equipo la fum... Ma non ti caccare addosso. La smoke grenade. Come me la metto? Wow! Toh. Perfetto! Qui me la devo tenere incollata davanti alla faccia. Sembra molto doloroso questo tipo di corsa. Per goliardia aggiungerei anche un effetto sonoro. Ma può succedere qualcosa? Pronto! C'è qualcuno? Qualcuno? Non lo so. Sono quasi nella top ten e ancora non ho visto niente. Ah, il resto della mappa si oscura completamente man mano che si chiude. Mi pare giusto. Quindi questi monoliti giganti chiudono la mappa. Molto inquietante, ma anche divertente. Bravi. Meglio di PlayerUnknown. Oh! Lì c'è un edificio. Credo che non è un edificio. È un monolito. Carino che si possa guardare il proprio personaggio mentre sta correndo. Facendosi un gran male, tra l'altro. Vedete queste belle rastrellature? Eh? Qui, qui e anche qui? Significa che il mondo di gioco è stato creato con un editor a cazzo e non l'hanno nemmeno rifinito. Bravi! Top ten! Meritatissima. Oh, un'arma lì, credo. Armi? Oh, bene, 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 bene. Fammi equipaggiare. E il metto? No, pistola. Pistola della seconda guerra mondiale. Mitra. Piede di porco. Coltello? Altro cappello? No, era meglio questo, non so. Ma che cazzo dovrei fare? Non ha colpi. Puttana. Non ha colpi. E vabbè. Quindi? Non ho colpi di niente. Però le braccia lunghissime. Lo scudo? Ah. Ok. Anzi, dammi lo scudo e magari anche un'arma vera, tipo dove era il coltellaccio qui. Che succede? Oh, merda. La zona! Cacchio. Sto bene? C'era uno lì avanti, l'ho visto. Inquietantissimo. Ma cacchio. Ma è fighissimo. Ah, quindi si viene a creare un vero e proprio muro. Bello. Sembro veramente pronto a tutto. Bende? Oh, sì. Oh, finalmente un'arma che spara. Cioè, almeno spero. Ok. Trenta colpi. Quindi mira e smolleggiati. Ho il colpo singolo, tra l'altro. Come si mette? Non lo so. Cacca! Anche io voglio uccidere qualcuno. Attenzione. Eh! L'ho preso? Ma è bellissimo! Eh! L'ho preso? L'ho preso? Non lo so! Cazzo! Che peste di male! Perché sto facendo la cacca? Eh! Ma ci sono pure gli effetti particolari. Mamma mia, che storia. Come ci si inclina o non ci si inclina? Bastardo! Devo curarmi. Ma ci hanno... Mio Dio! Non sono morto! Aspetta! Ma che cazzo? Cazzo, cazzo, cazzo! No, dai! Merda! Tutto ciò è fighissimo. Meglio tirar fuori la nostra arma segreta. Sei rimasti in due vivi? Non mi dire. La mia prima partita... Porca troia. La mia prima partita sei rimasti in due. E la granata! Mi proteggo col mio scudo! Porca troia! Dai! Arrivo! All'arma bianca! No! Ma perché non ci stanno giocando tutti a questo gioco di merda? Vai! Ve lo dico io perché sono tutti a costruire su Fortnite, a fare i cicchini della minchia su PlayerUnknown. E nessuno vuole correre come una principessina. Ma qui c'è un mago! Salve! Ma è Gandalf! E dietro cosa c'era? Devo capire come si fa a scendere... Mio Dio! Praticamente il gioco ti spara nella direzione in cui stai guardando, se non ho capito male. Devo andare nel castello. Cazzo, è pieno di gente. Vado! Porca troia! Eh, vabbè, arrivederci. E quindi io come dovrei entrare adesso? Non si può più? Aia! Cazzo! No, 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 no! E vabbè, dai, ma non ho trovato niente. Ma che sfiga! Eeeh! Ma buongiorno! Qual buon... Che è successo? Vediamo se riesco a farmi sparare in maniera intelligente. Puff! Cazzo! Ah, che male! Ho visto i miei occhi! Però sono esattamente dove volevo essere. Abbiamo delle palline. Bende. Delle carotine. Una pistola molto divertente. Ah, no, non è vero. Era una pistola con i colpi. Una sciabola. Cazzarola. Eh, no, dammi... Dammi questa, ecco. Aia! Che male! Così spara dei lanciarazzi tutti, proprio. Ma porca miseria! Oh, oh. Questo mi spacca la faccia. Questo mi spacca la faccia. Cazzarola! Bravo! Quindi, niente, la prima partita sono arrivato il secondo. Adesso non riuscirò mai più a fare niente. Oh, ma lì c'è anche una città. Eh, va beh, andiamo in città. Aia! Eh, ti pareva! Ma non è possibile! Siamo in 40 e li trovo solo gente. Cos'è? Un giubbino. O una maglietta. Eh, perché non me lo prende? Dove l'ha messo? L'ha droppato lì. Cominciamo bene. Eh, dai, c'è un altro qui che andrà di qua. Lo evito. Mio Dio! Non mi raccoglio le cose! Ma perché? Ah. Ecco perché. Come l'impressione è che ci sia un po' di Russia in questo gioco. Non ne sono sicuro. Mi ha aspettato di volare un po' di più. Quindi finisco in mezzo all'interno. Oh, posso volare in volo! Che non è una cosa così strana adesso che l'ho detto. Ma posso direzionarmi in volo. E chi si è visto, si è visto. Ma come si è seduto? Dai! Posso mettere sotto la gente? Vai! Vai! No! E non è possibile! Allora, questa sarà la volta buona. Ma sì! Ma o è intangibile o... Ah. Mi scrive un sonetto? Eh, vabbè. Ma non è possibile. Oh, cazzo. Aia! Ma... Ma ha dato un pugno? Oh! Ma non l'ho ucciso, però. Ma sì! Ma cosa? Dura la vita, eh? Già. Però che vista. Guarda quest'albero com'è finito. Ha voluto crescere una chioma troppo... Ma sì, ma io stavo raccontando una storia. Il mio scopo... È quello di raccimolare un'arma decente... E uccidere qualcuno. Flop! Agia, che male! Ci siamo. Bastardo! Bastardo! Vieni qua! Mi sono preso il giubbino. La pistola? No. Però... Meglio di niente. Yes! Oh, ho ucciso la tigre russa. Ma lui c'aveva un piccolo cannone. Che succede? Ma... Come funziona? Mi tremano le mani. Spariti tutti. Agia, che male! Ma che cazzo? Ma sto cannone mi aspettavo che facesse un po' di... Esplosione, almeno. Yes! E non aveva loot? Non ci credo che non aveva loot. Lotto per. Lo posso mettere nel piccolo cannone? A quanto pare sì. Allora, voi dovete capire... Che quando registro un gameplay di solito sono io che dico le puttanate per... Rendere il gioco più divertente. Ma di fronte a questo... Che cazzo posso dire? Cambio mestiere. Eh, zooma troppo adesso però. Qui... Credo che ci sia un... Un errore. Che è che è successo? Beh! No, dai. Salve. Lei è appena nato da una Y. Più volte. Più e più volte. Qui c'è un altro castello. Ma non è così bello. Il mio commento è totalmente superfluo. Io potrei tranquillamente lasciare un sottofondo musicale. Aiuto. Aia. No, dai. Ma che cazzo. Ma una bicicletta? E con che suono la bicicletta? Vabbè, ho capito. Ci leviamo dalle balle. Ma perché mi siedo alla cavallerizza? Salve. Beh. Beh, è andata bene. Ma io posso picchiare? Posso picchiare mentre guido? Cazzo. Ecco, se posso fare un piccolo appunto... Cacca. Che è successo? Perché mi sono seduto bene? Si è rotto il gioco, per caso? C'è poco loot. Non trovo loot. Come faccio? È arma bianca sia. Non ho capito poi perché me la devo dare in faccia prima di uccidere qualcuno, ma... Bella idea costruire le case con una certa pendenza. È poco loot. Poco loot. È l'unico difetto di questo bellissimo gioco. Ma dimmi che posso sparare mentre sto guidando. Da dove? Non vedo! Addio mio! Mannaggia! Me ne vado. No, 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 fanculo. Me ne vado. Prendo questa cosa. Ah, è un pede di porco. E via! Ho detto... E... E via? Oh no. Cioè... Oh. Oh, ma qui ci potevano provare le armi. Aia. Ma bellissimo! E vabbè, voglio provare il calibro 50. Ma porca vacca, ma che bello! E cazzo! No, no. Aspetta, aspetta, devo... Ah 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 ah! Ecco! Questo manca agli altri giochi di merda, santo cielo. Il lanciarazzi. Perché non c'è lanciarazzi su... Eh... Con questo mezzo. Vorrei mettere in chiaro questo. Altri giochi non ce l'hanno la possibilità di provare le armi. Perché no? Questa è una buona domanda. No! Oh mia mamma mia. Ah e dopo un po' prendono il volo? Sì. È la batterola il più bella che abbia mai giocato.